Ciao amici di Android Blog, oggi siamo con Yoga Tablet 10 HD+, il nuovo tablet di Lenovo presentato qui al Mobile World Congress 2014. Lenovo presenta questo tablet che come vediamo ha una base nel retro, uno stand che permette al tablet di rimanere in piedi durante l'utilizzo. Quindi potete visualizzare un film, navigare o comunque vedere delle foto, ascoltare la musica tenendo il tablet in posizione verticale. Passiamo quindi a quelle che sono le caratteristiche di questo tablet e poi andremo a guardare un attimino l'interfaccia personalizzata di Lenovo. Allora, si parte da appunto questa forma rotondeggiante nella parte inferiore dove è presente lo stand che poi esce e permette al tablet di rimanere in piedi come dicevamo prima. Sotto allo stand è presente l'espansione microSD. Questo tablet infatti esce con 16GB di memoria espandibile tramite microSD fino a 64GB ma credo che ci sia anche una versione da 32GB e come vedremo più avanti questa probabilmente lo è. Questa che ho in mano probabilmente lo è. Nella rotondità inferiore sono presenti anche due speaker probabilmente in Dolby Digital e un bottone per l'accensione e lo spegnimento del tablet quindi anche la memoria e anche lo switch off del dispositivo. Dall'altra parte troviamo il 3.5 per il collegamento con le cuffie e veniamo invece quindi alla dimensione del display. Abbiamo detto un 10.1 pollici wide screen IPS full HD un bel display abbastanza brillante come display e dettagliato devo dire che ho una buona impressione nonostante i fari di questo stand riflette poco. Caratteristiche hardware snapdragon 1.6 gigahertz quad core 8 megapixel la camera che troviamo nel retro nella parte appunto bombata autofocus e quindi è una camera con autofocus mentre non è da 8 megapixel ma da 1.6 la camera frontale per le videochiamate o le conversazioni skype. Lenovo dichiara 18 ore di autonomia della batteria una buona autonomia quindi quella almeno dichiarata speriamo di poterlo recensire e poter verificare se effettivamente questo tablet riesce a raggiungere le 18 ore. Voglio farvi vedere subito quello che è il drawer di Lenovo quindi la personalizzazione Android che loro hanno apportato ai loro prodotti. Partiamo dal browser come vedete un browser stock noi abbiamo già aperto androidblog.it per vedere un po' come andava e vi dico che non mi piace molto questo lag nel rendering. Nonostante il sito nonostante il sito sia abbastanza leggero notiamo che scrollando molto velocemente il tablet non riesce a renderizzare in maniera immediata. Probabile quindi una scarsa ottimizzazione del browser di Lenovo. Passiamo invece all'interfaccia personalizzata di Lenovo quindi l'assenza di un menu delle applicazioni e la presenza invece su entrambi i laterali di questo comodo slide che vi permette di accedere a questo piccolo launcher che vi permette di accedere alle applicazioni più utilizzate. Abbiamo per esempio un video che ora vi mostro delle foto, dei libri, tutte quelle che sono le applicazioni comunque più utilizzate tra cui anche il browser from. Vediamo di riprodurre il video demo di Lenovo. Voi forse non riuscite a sentirlo ma vi dico che agendo sul bilanciare del volume posto nel laterale e alzando o abbassando il volume questi altoparlanti risultano abbastanza potenti nonostante i rumori di sottofondo. Fluido il video, fluida l'interfaccia e secondo me molto azzeccata nei colori e nelle icone almeno per quelle che sono le personalizzazioni di Lenovo. Ultimissima e rapida cosa e sarebbero appunto da vedere la versione di Android montata, è la 4.3 Jelly Bean e con questo chiudo questa piccola preview. A presto amici di Android Loco.